Passano il Sassuolo. Preziosissima vittoria in trasferta per la Bartoccini Gioiellerie Perugia che dopo due ore di gioco batte la Delta Informatica Trento in quattro set con i parziali di 24-26, 19-25, 25-20, 23-25 e si porta solitaria in testa alla classifica scavalcando il Sassuolo. Sestetto titolare schierato in campo da coach Bovari con De Michelis in diagonale con Irina Smirnova, Giulia Pascucci e Giulia Pietrelli schiacciatori ricevitori, al centro Luisa Casillo e Chiara Lapi e Libero Eleonora Bruno. Le due squadre procedono appaiate in avvio anche se Perugia spreca molte opportunità in contrattacco. La gara è combattuta da entrambe le parti ma la Bartoccini fa valere la sua esperienza e si porta avanti 8-11. Qualche errore di troppo in ricezione fa riavvicinare Trento 19-19. Finale ha i vantaggi e Perugia riesce a chiudere con il punteggio di 26-24. Le magliette nere spingono sull'acceleratore in avvio del secondo set 4-8 ma l'ottimo servizio di Trento mette in difficoltà la ricezione Umbra e grazie anche a due muri consecutivi le padrone di casa si rifanno sotto. Perugia riprende in mano il gioco ma Trento si tiene a contatto aiutata dagli errori in ricezione delle ragazze di Bovari che poi tornano ad imporre il proprio gioco piazzando un break di 3 punti 16-20 che anienta le difese trentine e porta le Umbre alla conquista del secondo parziale 19-25. Delta informatica più incisiva nel terzo set 4-1. Ci prova Smirnova a tenere a galla la Bartoccini ma ancora la ricezione di Perugia non è perfetta e Trento scappa via 13-9. Bovari toglie Pascucci per catena e Perugia riesce a riavvicinarsi. Si prosegue punto su punto poi Trento si aggiudica il set 25-20. Quarto set al Cardiopalma. Perugia piazza subito un break ma due muri consecutivi riportano sotto Trento 9-10. Le due squadre procedono punto a punto fino a quando le padrone di casa si portano a più 2-21-19. la Bartoccini reagisce di forza e riaggancia ma è ancora la delta informatica a piazzare un micidiale 1-2, 23-21. Sembrerebbe il preludio del tie-break ma le magliette nere chiudono il set 23-25.